Briefing del 12 novembre 2019 Laudetur Iesus Christus, Ave Maria Cari amici, uno dei quattro cardinali dei dubbia sulla Moris Letizia, il cardinale americano Raymond Leo Burke, ha rilasciato un'intervista al giornalista Ross Datt, anche gli americano, che è stata pubblicata su New York Times il 9 novembre. Tale intervista è stata tradotta in italiano da vari giornalisti e quindi vi consigliamo caldamente di leggerla perché è davvero molto interessante. Il cardinale Burke ha affrontato, come al suo solito, davvero con paresia, parola oggi molto usata, tutto ciò che oggi purtroppo è sotto gli occhi di tutti, la crisi della Chiesa, il doppio sinodo sulla famiglia, e il recente sinodo sulla Mazzonia, nonché anche gli idoli di Pachamama portati in processione sia in Vaticano che nella dioce di Roma, nella parrocchia in Traspontina. Però noi oggi, prendendo spunto da alcune parole del cardinale che riguardano il concilio ecumenico Vaticano II, vorremmo riflettere con voi su questo, che ci porta in un certo senso alla radice, alle cause di questa drammatica crisi della Chiesa, sicuramente la più terribile che la Chiesa abbia dovuto affrontare dalla sua fondazione ad oggi. Il cardinale Burke, rispondendo ovviamente alla domanda di Ross Dutt, dice che si è formata una strana euforia che si è manifestata durante gli anni del concilio e dopo, parole del cardinale, ora improvvisamente siamo tutti liberi, questa è una frase del cardinale, questo è il messaggio che è passato, ora improvvisamente siamo tutti liberi. Noi concordiamo col cardinale Burke perché, vedete, si è intanto discusso delle due ermeneutiche conciliari che Benedetto XVI ha illustrato nel famoso discorso La Curia Romana del 22 dicembre del 2005, dove lui ha parlato dell'ermeneutica della rottura della scontinuità, che è la definita errata, non quella giusta, è la cosiddetta ermeneutica della riforma nella continuità, quindi cambiamente sì, ma senza rotture col passato. Questa sarebbe l'ermeneutica che Benedetto non soltanto ha proposto, ma definito giusta e corretta del concilio ecumenico Vaticano II. Quindi il Santo Padre regnante dell'epoca ha detto invece che fermarci su questo cosiddetto spirito del concilio bisogna riscoprire la lettera del concilio, i suoi documenti. Queste in sintesi furono le parole di Papa Benedetto XVI nel 2005. Noi siamo stati, non lo neghiamo, convinti sostenitori dell'ermeneutica della riforma della continuità, perché eravamo altresì convinti che fosse la strada giusta per uscire da questo diabolico pantano in cui la Chiesa si trova da circa 50 anni. Però purtroppo da quando è cominciato il pontificato di Papa Francesco ci siamo resi conto che purtroppo l'ermeneutica della riforma della continuità non basta. può curare certi sintomi ma non la causa, perché la causa di questa crisi sta proprio anche nei documenti conciliari. Riflettiamoci un attimo, perché ha trionfato l'ermeneutica della rottura e della scontinuità e non quella della riforma nella continuità? Perché, benché quei documenti alla fine siano stati proprio disconosciuti dagli stessi padri conciliari, tenendo conto tra l'altro, ne abbiamo parlato anche in alcuni nostri interventi, sia nelle catechesi, sia nei nostri iscritti nel nostro sito, e quindi vi consigliamo di andare a leggerli. Questo è stato un concilio ecumenico veramente molto particolare per tanti aspetti. Prima di tutto perché non si è occupato, è stato il primo concilio ecumenico che non ha voluto essere veramente dogmatico, benché vi siano dei documenti che vengono classificati come dogmatici, tra cui la famosa Lumen Gentium. Ma questo concilio ecumenico, per la prima volta nella storia, non si prefissava di condannare gli errori di quel tempo o gli errori in generale. Questo concilio ecumenico è stato convocato proprio perché la Chiesa, in un certo senso, si è sentita, o la gerarchia che governava la Chiesa in quegli anni, si è sentita inadeguata nei confronti di questo cosiddetto mondo moderno. Basta leggere la Costituzione pastorale Gaudium et Spes, la più citata e la più amata dai progressisti. La Chiesa nel mondo contemporaneo. Ma la Chiesa nel mondo contemporaneo non può cambiare, è sempre lo stesso. Non si può rompere le righe o sentirsi improvvisamente liberi, come se prima la Chiesa fosse una carceriera. Anzi, la missione della Chiesa è liberarci dal peccato. La Chiesa ci rende liberi perché la verità ci fa liberi. Cristo ci libera perché Cristo è il Logos, la verità. Io sono la via, la verità è la vita, dice il Signore. Certamente non andava tutto bene prima del concilio, anzi, la stragrande maggioranza dei vescovi conciliari, così come i periti conciliari, da loro voluti, si erano formati tra l'altro in cosiddetti seminari tredentini. Però, purtroppo, il modernismo, dopo San Pio X, vuole dirlo, ma la verità è la verità, i suoi successori non sono stati pronti, accorti, nell'impedire a questo virus modernista di continuare a diffondersi, anche di evolversi, all'interno dei seminari e delle parrocchie. Ciò che è stato seminato è stato raccolto al Vaticano II. Questo è successo perché, al di là dei suoi testi, che effettivamente non vi sono eresie, ma vi è l'errore dell'antropocentrismo. La Gaudemeth Spes ne è l'esempio lampante. La gerarchia della Chiesa ha fatto propria la svolta antropologica di Karl Rane, il gesuita tedesco, che è stato profeta, in senso opposto al termine, della nuova Chiesa. Ma di questo ne parleremo magari in un altro approfondimento. è passato il messaggio che la Chiesa finalmente aveva capito di aver sbagliato per 1962 anni e che finalmente doveva aprirsi alle istanze dell'uomo, dell'uomo moderno. Un uomo moderno che alla fine commette sempre lo stesso peccato di Adamo, la superbia. L'uomo moderno è quello di Dice che grida Dio è morto, e chi l'ha ucciso? È morto perché l'hai ucciso tu. Attenzione, l'uomo di Nice che grida Dio è morto? È morto perché l'hai ucciso tu? Non è San Pietro che il giorno di Pentecoste dice agli ebrei voi l'avete ucciso, convertitevi, pentitevi e convertitevi, fatevi battezzare. No, Nice grida Dio è morto e resta morto. Il cosiddetto uomo moderno è l'uomo gnostico, superbo, alla massima potenza. Non voglio Dio, rifiuto Dio, non so che farmene di Dio. Questo è stato l'errore dei padri e dei periti conciliari. Tempo fa facemmo un testo, una videocatechesi, delle analisi che il servo di Dio Don Divo Barsotti fece proprio sui documenti conciliari e sul Vaticano secondo in sé. Vi raccomandiamo di andare a rileggerlo e riascoltarlo, perché è molto utile per capire la radice della crisi è proprio questa. Se andati dietro a questo uomo moderno, anziché convertirlo, degli mettiti in ginocchio, pentiti, convertiti, fai penitenza, è il grido di Fatima, penitenza, penitenza, penitenza. Si è cercato di giustificarlo in tutti i modi. Si è cercato di dirgli guarda la Chiesa non è quella che pensi, la Chiesa si fa come tu vuoi che sia e invece non è servito a niente, perché vedete, non si può pensare che si possa essere cristiani e non cristiani insieme, no. Vedete, il mondo, ogni mondo, il secolo, ogni secolo, offre all'uomo due P, il piacere e il potere, ma la Chiesa, la Chiesa di sempre, la sposa mistica di Cristo, ti offre altre due P, la preghiera e la penitenza. Il cristiano, il battezzato, non può avere tutte e quattro. O sceglie le due P, preghiera e penitenza, oppure può scegliere, Dio ci ha creato liberi, le altre due P, il potere e il piacere. Ma questa scelta comporta necessariamente un'altra P, la perdizione. Mentre le due P cristiane, la preghiera e la penitenza, portano ad una S, la salvezza, perché l'uomo ha bisogno di essere salvato, ma non si può salvare da solo. Solo Cristo, l'uomo Dio, lo può salvare. Questo è stato l'errore del concilio ecumenico Vaticano II. Per questo ha trionfato la cosiddetta ermeneutica della rottura e della discontinuità. Perché una rottura c'è stata. Si è creduto di poter essere cristiani e non cristiani insieme. Di poter avere la botte piena e la moglie ubriaca. No, non è possibile. Perché il principe di questo mondo è il diavolo. E il diavolo vuole strappare al Signore le nostre anime. E se noi glielo permettiamo, il diavolo ci può riuscire. La Chiesa al Vaticano II è stata considerata dai periti e dai padri problema, non soluzione, ai mali del cosiddetto mondo contemporaneo, mondo moderno. E infatti, non si doveva più condannare l'errore. Ma l'errore, stringi stringi, è sempre lo stesso. l'agnosi, l'agnosi che si oppone al Logos, al Cristo, il Dio fatto uomo. La superbia di volere essere come Dio, di occuparsi dei cosiddetti diritti dell'uomo e non dei diritti di Dio. Perché prima di tutto la Chiesa deve ricordare all'uomo i suoi doveri, il dovere di adorare e di servire Dio in tutte le epoche, in tutte le nazioni, sempre e comunque. Quindi, cari amici, restiamo fedele alla nostra vocazione cristiana che abbiamo ricevuto col battesimo e abbiamo confermato col sacramento della Cresima. Siamo diventati mille cristi, soldati di Cristo, proprio per combattere la buona battaglia. E la buona battaglia si combate anche contro questo mondo moderno, cosiddetto mondo moderno, perché alla fine dicevamo il peccato, l'uomo è sempre lo stesso, il peccato è sempre lo stesso. Combattiamo questa buona battaglia, il Signore ci starà vicino, ci reuterà con la sua grazia, perché non possiamo infatti salvarci da soli e abbiamo bisogno di essere salvati, ricordandoci che non possiamo avere la botte piena e la voglia ubriaca. Dobbiamo fare una scelta fra queste quattro P, le due P del mondo, piacere e potere, e le due P della Chiesa Cattolica, preghiera e penitenza, preghiera e penitenza. Quindi, nonostante ciò che è passato dal Concilio Ecumenico Vaticano secondo in poi, dobbiamo rimanere fedeli per banere nella verità di Cristo, ricordando sempre che Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo, e sia lodato Gesù Cristo. Laudetum è vero Dio, Gesù Cristo, Ave Maria. ковa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.